Anche quest'anno è arrivato Sanremo Ci sono tutti O quasi tutti Perché? Perché? Perché Sanremo è Sanremo Perché lì da anni c'è qualcuno che mi aspetta Vedete? Angelo Angelo Jay Ma a Sanremo niente? Quando ti dobbiamo vedere? Siamo venuti per te Quindi non ci sei È al solito Ci dai appuntamenti e non ti presenti Ciao, ciao Angelo No perché quando tu sei siciliano mi chiamano Siciliano come a mio Non posso mancare Ci devo andare per forza Angelo Ma a Sanremo niente? 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 Quando ti dobbiamo vedere? Quando ti dobbiamo vedere? Inizia la corsa Anche io a Sanremo Arrivo Sanremo Anche io a Sanremo Angelo Ma a Sanremo niente? Anche io a Sanremo Arrivo Sanremo Pronto? Pronto Sono il Gedrino da Corleone Gedrino? Mi dai una mano per andare a Sanremo? Tu a Sanremo non ci devi andare Per cantare da famiglia O ne piace cantare Cantare Cantante Cantare Io non sono un cantante Faccio il DJ Chissà se andrò a Sanremo E voi cosa ne pensate di questo Sanremo? Qual è il vostro pezzo preferito? E secondo voi chi vincerà? Scrivetemelo qui sotto nei commenti Poi se il video vi è piaciuto condividetelo Da qui ci deve essere un pulsante condividi Su Facebook Mettetelo anche Perché Eh? È un po' È un po' Un po' Su Facebook è un po' E mettete anche un mi piace Tanto È gratis E ci metti due secondi Iscrivetevi al mio canale YouTube Direttamente da Qui Cliccate qui Ok E secondo me Sanremo lo vincerà Eh? Alla prossima C'è E continuate a seguire www.angeloj.net